benvenuti sui cinque migliori posti a visitare in asia l'asia è un continente più grande popolato del mondo che copre un'area di circa 44,5 milioni di chilometri quadrati e la casa di oltre 4 miliardi di persone che rappresentano più della metà della popolazione mondiale l'asia è un continente diverso con una ricca storia e cultura e la sede di un'ampia gamma di lingue religioni e tradizioni e anche la casa di alcuni dei paesi più popolati economicamente del mondo come la cina e l'india l'asia è un continente diverso con una serie di paesaggi tra cui montagne deserti e foreste e anche la casa di molti grandi fiumi tra cui lo yangtze il gange e il mekong in termini di turismo l'asia è una destinazione popolare per i viaggiatori di tutto il mondo è la casa di molti punti di riferimento economici come la grande muraglia, il Taj Mahal in India e i templi di Angkor in Cambogia e si ospita anche un'ampia gamma di attrazioni naturali tra cui la montagna dell'Himalaya, le spiagge dell'Atalandia e la foresta pluviale e tropicale dell'Indonesia i mercati in Cina sono una caratteristica comune in molte città della Cina di solito sono un trambusto posti molto affollati dove la gente va a comprare e vendere merci così come socializzare e incontrare amici e vicini i mercati cinesi si trovano in molte forme diverse tra cui i mercati all'aperto tradizionale, centri commerciali e i mercati immercativi alcuni mercati sono specializzati in particolari tipi di prodotto come la bilanamento, l'elettronica o il cibo mentre altri offrono un'ampia gamma di merci in termini di atmosfera i mercati cinesi sono spesso luoghi privaci e energetici si possono sentire i venditori urlare i prezzi e la qualità dei loro beni mentre gli acquirienti sono impegnati a comprare le migliori offerte gli odori di cibo e incenso cotti si trovano spesso nell'aria la cerimonia del tè nota anche chanyu o sado in giapponese è una tradizionale attività culturale giapponese che coinvolge la preparazione e il servizio del tè si tratta di un'attività altamente ritualizzata che si sta ripagando in secoli di tradizione e cultura la cerimonia del tè si concentra intorno alla preparazione e al servizio della maccia un tipo di tè verde in polvere si trova tipicamente in una sala di tè speciale o chashitsu che è una piccola stanza o una tokonoma o alcove che serve da aria per mostrare i fiori e altri oggetti decorativi i templi o wats sono una parte importante della cultura italandesi si trovano in tutto il paese servono come luoghi di culto per i buddhisti nonché centri per le attività culturali e sociali i templi italandesi sono lotti per la loro architettura ornata dalle loro complesse decorazioni che spesso dispongono di foglia d'oro mosaici colorati e anticattentali molti tempi hanno anche grandi statue del buddha così come altre divinità e figure religiose ci sono molti festival eventi santi celebrati in india comunque il paese è un passaggio religioso diversificato e multiforme questi eventi spesso coinvolgono rituali, preghiere e altre pratiche devozionali nonché musica, danza e altre attività culturali uno dei festival venuti all'india è il festival indudi di wali che è anche noto come festival delle luci si celebra in tutta l'india e segna la vittoria del bene sul male un altro importante festival è il festival dei colori che si festeggia in primavera i festival in india includono la festa islamica di Eid al-Fitr che segna la fine del ramadan il festival buddista di Besak che celebra la nascita l'illuminazione e la morte del buddha e il festival di Sikhi di Kurkura che celebra la vita e gli insegnamenti del guru Sikhi sono solo degli esempi dei tanti festival ai ronti che si celebrano all'india ogni festival ha le proprie abitudini e tradizioni uniche e tutti offrono una ricca e colorata esperienza culturale per i viaggiatori locali Burakai è una piccola isola delle filippine che nota per le sue belle spiagge e le sue acche cristalline si trova nella regione occidentale di Zaya del paese è una destinazione popolare per i viaggiatori di tutto il mondo la spiaggia principale di Burakai si chiama White Beach che è un tratto di 4 km di sabbia bianca e polvere è considerato una delle migliori spiagge del mondo è un luogo popolare per il nuoto, il sole, lo sport acquatico ci sono molte cose da fare su Burakai tra cui il nuoto nelle acque chiare, lo snorkeling, l'immersione e la partecipazione, sport acquatici come lo sci d'acqua e il jet ski il paravela e il kiteboarding ci sono anche molti ristoranti, bar e negozi lungo White Beach che offrono una varietà di cucina locale e internazionale nonché souvenir e altri articoli se vi piacciono i miei video che sembrano quasi documentaristici iscrivetevi e commentate e condividete grazie mille al prossimo video